In chiesta affidamenti salgono a 5 gli indagati Ricci difende i suoi ex funzionari Torretti di Ancona per il terzo anno eletto miglior ospedale pubblico d'Italia Ruderi che si sgretolano dopo il San Benedetto transennata anche la chiesa delle Zoccolette Nella zona mare di Pesaro si smontano ruota panoramica e bosco che cammina Arriva il primo concorso per contenuti artistici destinati alla biosfera Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News Telegiornale del Canal 80 che in questa edizione di martedì 29 ottobre Rappriamo occupandoci dell'inchiesta della procura di Pesaro sugli affidamenti diretti delle comune in favore delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare Inchiesta in cui ora si allargono a 5 il numero degli indagati E intanto l'ex sindaco Matteo Ricci interviene attraverso un comunicato per difendere l'operato dei suoi ex funzionari e della giunta uscente Salgono a 5 gli indagati nell'inchiesta della procura nei confronti dei cosiddetti affidi facili da parte del comune di Pesaro Ieri l'indagine del PM Napolillo ha notificato un avviso di garanzia a Franco Arceci ex capo di gabinetto del sindaco Ricci L'accusa è di concorso in corruzione nell'ambito delle determine per affidamenti di lavori alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare Con Arceci da ieri è iscritto fra gli indagati anche il dirigente comunale dei lavori pubblici Eros Giraldi firmatario della determina per la manutenzione del verde di piazzale d'annunzio e ora accusato di falso Arceci e Giraldi si aggiungono ai già indagati Stefano Esposto presidente delle due associazioni no profit beneficiari degli affidamenti a Massimiliano Santini considerato il principale trade union fra il comune e le associazioni e al geometra Loris Pascucci funzionario comunale del settore manutenzioni indagato per falso in atto pubblico Arceci fu oggetto di perquisizione lo scorso 10 ottobre quando Polizia e Finanza lo ascoltarono in qualità di persona informata sui fatti ma senza iscriverlo all'epoca nel registro degli indagati Acquisizione di documenti che in quella data fu fatta anche a carico dello stesso Giraldi Arceci non ha più incarichi ufficiali in comune dal suo pensionamento del 2021 ma è rimasto legato all'amministrazione come consulente in virtù della sua lunga esperienza fra le incongruenze contestate legami poco chiari negli affidamenti fra Manutenzione del Verde di Piazzale d'Annunzio e Cascone di Valentino Rossi e fra i lavori idraulici di Via Nanterre e la realizzazione delle murale di Liliana Segre Dopo lungo silenzio sull'argomento è intervenuto oggi attraverso un comunicato stampa anche l'ex sindaco Matteo Ricci riferendosi ad Arceci, Giraldi e Pascucci come a tre ottimi funzionari comunali, seri ed onesti che dimostreranno la correttezza dei loro atti e la loro estraneità Ricci ribadisce nel comunicato che la giunta comune all'uscente non si è mai occupata di affidamenti o appalti ma si è sempre fidata dei collaboratori e dirigenti che fino a prova contraria hanno sempre fatto un ottimo lavoro Anche i lavori al centro dell'indagine sono stati realizzati regolarmente e mai ci sono state segnalate stranezze o elementi di irregolarità La destra locale, dice Ricci, continua a strumentalizzare politicamente una vicenda che con la politica non c'entra nulla e lo fa solo per mancanza di argomenti veri e perché terrorizzata dalle prossime elezioni regionali Ricci si augura dunque che la magistratura faccia presto chiarezza e conclude scrivendo che se qualcuno in questa vicenda avesse sbagliato ne risponderà personalmente e noi ci costituiremo parte l'ESA E passiamo ad un altro argomento che riguarda Matteo Ricci alla luce del miliardo e 800 milioni di euro destinati all'arretramento della ferrovia nei territori di Pesaro e Fano fondi che rischiano concretamente di sparire L'ex sindaco di Pesaro però non ci sta e annuncia un'interrogazione al Parlamento europeo Matteo Ricci lo ha etichettato senza tanti giri di parole il più grande furto mai commesso dalla regione Marche riferimento al miliardo e 800 milioni di euro destinati all'arretramento ferroviario di Pesaro e Fano per un progetto ottenuto tramite il governo Draghi dall'amministrazione pesarese di Ricci che ora pare però destinata ad altre regioni Abbiamo ottenuto per il nostro territorio un miliardo e otto la variante di Pesaro e Fano Nessuno tocchi quelle risorse perché sono risorse che vanno a modernizzare la ferrovia e danno un vantaggio di competitività all'intera regione Ricci che attualmente è vicepresidente della Commissione Infrastrutture, Trasporti e Turismo del Parlamento europeo si dice pronto a presentare un'interrogazione allo stesso Parlamento di fronte a un progetto frenato dalla politica regionale che avrebbe osteggiato il bypass in favore di un progetto d'alta velocità destinato all'intera dorsale adriatica regionale ma per il quale servirebbero come minimo 60 miliardi e oggi non ci sarebbe un euro stanziato fino al 2036 L'ospedale Torrette di Ancona azienda ospedaliero universitaria delle Marche per il terzo anno consecutivo si classifica come miglior ospedale pubblico d'Italia secondo il programma nazionale Esiti 2024 presentato oggi a Roma Il report di Agenas l'Agenzia per i Servizi Sanitari del Ministero della Salute quest'anno la affianca al Careggi di Firenze e all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano tra gli ospedali privati Per Ancona si tratta di un importante riconoscimento e conferma frutto di un costante progresso nella qualità e negli esiti delle cure L'avvocato Elena Fabri che segue il caso della scomparsa di Riccardo Branchini 19 anni di Acqualagna di cui si sono perse le tracce del 12 ottobre ha presentato alla prefettura di Pesaro Urbino un'istanza per svuotare la diga della gola del furlo Secondo la famiglia Branchini la risposta sulla scomparsa di Riccardo è nelle tre grotte ancora non perlustrabili senza un'operazione di svuotamento E torniamo su Pesaro dove dopo il maltempo continuano i cedimenti dagli edifici abbandonati della città che attendono progetti di riqualificazione dopo l'ex manicomio del San Benedetto questa mattina è stata transennata all'area dell'ex chiesa delle Zoccolette Gli effetti delle ultime piogge si fanno sentire a scoppio ritardato sui palazzi abbandonati di Pesaro Dopo i cedimenti registrati domenica nell'ex manicomio San Benedetto oggi i vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti in via delle vetrerie per la situazione precaria di un ponteggio di cornicione dell'ex chiesa delle Zoccolette area che è stata transennata Purtroppo queste piogge così violente stanno creando dei problemi anche a quegli edifici che ovviamente sono edifici in gran parte che sono chiusi da anni in via delle Zoccolette è un altro di questi casi è un edificio che abbiamo l'amministrazione comunale ha ceduto qualche anno fa all'Erap sul quale c'è un finanziamento che però voglio ricordarlo di Erap per riqualificarlo per realizzare anche in questo caso alloggi di edilizia residenziale pubblica e quindi si tratta adesso ci contatteremo subito tra Comune e Erap cercheremo di far subito un intervento di messa in sicurezza cioè far sì che quelli che sono i coppi che cadono non ci sia più il pericolo per le persone che passano sotto dall'altra parte proprio in questi giorni proprio domenica è stata chiusa via Mammolabella perché anche l'edificio l'ex manicomio e in particolare la parte di proprietà di AST quindi della regione anche lì si sono stati costretti ad intervenire perché stavano cadendo dei coppi ho parlato questa mattina direttamente col direttore generale con il dottor Carelli che sta già intervenendo questa mattina quindi voglio ringraziare l'AST per l'intervento immediato e mi ha detto che già farà sono previsti anche gli interventi per la prossima settimana per fare ulteriori appunto ulteriori interventi di messa in sicurezza sicuramente si crea del disagio per i cittadini che abitano in via Mammolabella perché per fare l'intervento è necessario mettere sull'impalcatura però devo dire che sono intervenuti veramente in tempi rapidi e rimanendo in tema di conseguenze da maltempo è previsto per domattina l'abbattimento del grosso pino che un mese fa a causa del forte vento si è pericolosamente inclinato in via Le Treste all'altezza dell'ex colonia Villa Marina l'albero non appartiene a una specie protetta è stato monitorato per un mese da Aspes di concerto con il comune prima di decidere per l'abbattimento una soluzione drastica dovuta all'estrema inclinazione del pino che ha già danneggiato e sollevato il marciapiede e anche per cause della sua posizione particolare con tubi e linee elettriche che scorrono sotto le radici impedendo l'installazione di basamenti e rinforzi Aspes comunica che quella di domani sarà la prima di una serie di abbattimenti di alberi pericolosi per l'incolumità pubblica nei prossimi giorni infatti si procederà con l'abbattimento di altri tre alberi in varie zone della città numeri positivi a Pesaro per quanto riguarda l'apertura di nuove attività commerciali rispetto al 2023 ne abbiamo parlato con il direttore di Confesercenti Davide Ipaso 19 attività commerciali in più nel centro storico di Pesaro 8 aggiuntive invece nella zona mare un dato incoraggiante per quello che riguarda il movimento del commercio si è andato anche in controtendenza alla realtà fanese Sì in controtendenza rispetto ai nostri cugini fanesi questo fa capire che Pesaro è ancora appetibile il discorso sull'apertura delle 27 attività e la durata se l'attività comunque si affiglia alle associazioni siamo in grado di spiegare a chi vuole anche un'idea imprenditoriale se è fattibile o no se uno fa tutto da sé le possibilità di un rischio di morte prima dei tre anni che normalmente è la media di un'attività nuova il rischio è quello di perire velocemente se non fa un'indagine di mercato adatta al prodotto che vuole immettere all'interno del mercato Appetibilità di peso l'appetibilità anche del centro storico in tal senso? Il nostro centro storico è un centro storico che comunque negli anni ha mantenuto la sua vitalità con tutte le difficoltà del caso con i lavori che ci sono comunque il nostro centro storico è ancora vivo stiamo perdendo le attività autoctone e questo è l'unica cosa che ci preoccupa anche perché gli affitti nel centro sono elevatissimi e solo chi è che è padrone dei muri è in grado di poter resistere se invece hai un affitto che è un capestro al collo è difficile perché poi alla fine dell'anno sono soldi hanno aperto molti franchising e questi comunque portano vita e questo ci fa ben sperare per il futuro Ed è partita la fase di smontaggio della ruota panoramica di 35 metri che per il secondo anno ha stazionato nei giardini adiacenti alla palla di Pomodoro la ruota è stata un'attrazione permanente dalla metà di marzo ad oggi e come da previsione smobilita nelle weekend di ogni Santi ancora da valutare il suo ritorno in città per il 2025 ed oggi è stata completata anche la rimozione dell'installazione itinerante Bosco che cammina che da luglio è stata presente in Viale Marconi affiancata all'auditorium Scavolini i 100 vasi di alberi che rappresentano il significato dell'importanza del verde in luoghi cementificati conclude dunque il suo viaggio con la messa di mora degli alberi nelle spazi dell'alberghiero Santa Marta senza il Bosco che cammina cambierà la viabilità in Viale Marconi che sarà nuovamente percorribile dalle auto a senso unico da Viale di Partigiani verso la Statale nella parte di strada all'atto auditorium è previsto un piazzale per la convivialità che aumenterà lo spazio pedonale rispetto all'attuale marciapiede lungo Viale Marconi rimarranno a disposizione nove parcheggi e arriva anche il primo concorso per artisti creative designer chiamati a realizzare contenuti da destinare alla biosfera vediamo per gli ultimi due mesi di permanenza della biosfera in piazza del popolo Pesaro 2024 lancia la prima edizione delle Biosfera Prize un concorso unico al mondo che chiamerà raccolta creativi artisti designer e musicisti a realizzare i nuovi contenuti di opere audiovisive specifiche che esplorino con la biosfera la connessione fra natura arte e tecnologia che è stata il filo conduttore dell'anno di capitale della cultura e della biosfera stessa entro il 15 dicembre andranno recapitate opere audiovisive di un massimo di 6 minuti con una preview di 2 minuti il concorso supportato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti consentirà ai partecipanti di cimentarsi con intelligenza artificiale machine learning e simulazioni generative 3D la giuria composta da esperti nominati da Fondazione Pescheria premierà il vincitore con 4.000 euro e attribuirà tre menzioni speciali con un premio monetario di 500 euro le opere saranno presentate durante la cerimonia di chiusura di Pesaro 2024 questo ci permetterà nei tempi poi della realizzazione del concorso di dotare innanzitutto la biosfera di una nuova library di contenuti che possa essere utile sia per i mesi ancora di permanenza nell'anno previsto in Piazza del Popolo che anche nelle nuove sedi in cui si deciderà poi di andare a collocare o a fare circuitare la biosfera allo stesso tempo è anche un'occasione diciamo internazionale per singoli artisti creativi ma anche per università per centri di ricerca un po' come è stato anche con il fortunatissimo concorso della Sonosfera che poi è arrivato a coinvolgere anche l'IRCAM e il Centro Popidu di Parigi pensiamo che allo stesso modo diciamo lo strumento biosfera possa diventare una tela digitale audio video su cui poter richiamare appunto artisti da tutto il mondo a cimentarsi dando quindi una nuova centralità a Pesaro e quindi anche un elemento di rilancio naturalmente che va oltre i mesi della capitale della cultura taglia il traguardo della 65esima edizione la stagione concertistica dell'ente concerti di Pesaro un programma che inizierà il 17 di novembre con la performance di Rafael Gualazzi sarà Rafael Gualazzi ad inaugurare la 65esima stagione concertistica dell'ente concerti che partirà il 17 novembre al teatro Rossini l'artista Rubinate proporrà nell'occasione alcuni brani tratti dai suoi ultimi progetti Dreams e Dreams in Jazz oltre ai classici della sua carriera e rivisitazioni internazionali proponiamo un cartellone molto ricco con orchestre sinfoniche grandi solisti e un repertorio che abbraccia tantissime tantissime tendenze musicali del mondo di oggi comprendendo in queste anche il jazz la canzone d'autore e il fatto poi che apriamo proprio con Rafael Gualazzi dimostra proprio questa nostra volontà di allargamento a un pubblico anche di giovani e comunque un pubblico crossover attraverso i vari linguaggi della musica certo il focus rimane sempre la grande musica classica perché è un pochino quello che ci caratterizza e caratterizza la nostra storia e per questo insomma che abbiamo creato nel corso del tempo un pubblico molto affezionato quest'anno è l'anno dei pianisti ed è l'anno della filarmonica marchigiana che collabora con noi da sempre e che accoglie le nostre proposte i pianisti propongono concerti per pianoforte e orchestra del repertorio classico tradizionale il primo dei dieci appuntamenti orchestrali in programma fino ad aprile sarà affidato alla lituana Claypeda Chamber Orchestra per poi continuare con Arsenio Munn Alexander Longwich il ritorno di Stefan Milenkovic e Nicola Piovani alla direzione della Form e poi ancora Ravelle Bizet proposti dall'orchestra sinfonica abruzzese l'orchestra Ico Suoni del Sud e poi tributi a Frank Sinatra Ezio Bosso il Requiem di Mozart fino alla chiusura del 30 aprile con Alessandro Taverna Gli abbonamenti costano da 150 euro i ridotti a 230 se pensiamo che i concerti sono 14 credo che siano prezzi più che abbordabili e i biglietti i biglietti vanno da 8 a 23 euro si acquistano il giorno stesso del concerto secondo le date di apertura del botteghino 8 euro i costi sono i costi più bassi ridotti 23 euro il biglietto intero nei primi posti si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News però continuano gli spazi informativi d'approfondimento sulla nostra emittente a cominciare da quello che vi proponiamo subito dopo il Tg alle 20 il nostro speciale dedicato a professioni in evoluzione ridefinire il futuro del lavoro un convegno tenutosi il 25 ottobre presso l'hotel Charlie di Pesaro organizzato da Bacardi Parders Asla e LCA appuntamento dunque alle 20 a seguire alle 21 e 20 come ogni martedì appuntamento con cultura territorio impresa ottava puntata che approfondirà le figure di Antonella Storoni dello studio Selva Storoni e di Roberto Bartolini di Roberto Bartolini studio e ancora spazio allo sport alle 21 e 40 vi riproporremo la differita della partita della Fiorini Pesaro rugby contro rugby Badia andata in scena domenica e coincisa con la prima vittoria stagionale dei Kiwi giallorossi e poi naturalmente vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta a partire dalle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dal nostro Paolo Pagnini si chiude invece qui lo spazio informativo serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti